Primo video del formato Il Podcast del lunedì sul mio canale per commentare i principali eventi motoristici capitati nello scorso weekend. Le immagini ci portano al circuito di Phillip Island in Australia dove si è svolto il primo round del campionato Superbike e Supersport 2019. Ai microfoni Vettorgard partiamo dunque con la panoramica del circuito che è stato protagonista di questo weekend delle categorie Superbike e Supersport. all'atto inaugurale ormai da diversi anni a questa parte in terra australiana. Terra australiana che di fatto ha visto due protagonisti su tutti in categoria Superbike e categoria Supersport. In Superbike senza un po' di dubbio Alvaro Bautista, qui vediamo l'immagine sul Ducati di Team Aruba. Secondo protagonista Randy Krummenacher sulla Yamaha R6 del team Evan Bross, qui parliamo invece di Supersport. Partiamo però con ordine e parliamo delle gare della Superbike. Su questo circuito qui Alvaro Bautista è stato il netto incontrastato protagonista. Tre vittorie su tre gare, mai nessun pilota ci è riuscito ma semplicemente perché è la prima volta che la Superbike presenta tre gare nel corso del weekend. E la grande novità è stata appunto rappresentata dalla gara sprint o Superpole Race, come sarebbe meglio dire. Una gara della durata fissa di dieci giri dove i primi nove piloti classificati non solo sono quelli che vanno a punti in questa gara speciale, ma sono quelli che appunto determinano la griglia di partenza della seconda gara lunga, che ha ancora il nome gara 2 ma potrebbe anche essere benissimo chiamata gara 3. Ma al di là delle mie paranoie incredibili, il protagonista assoluto è stato Alvaro Bautista. Nei test fatti proprio a Phillip Island si poteva già capire come il pilota spagnolo poteva essere uno dei possibili avversari di Jonathan Ray, che è il pluricampione di questa categoria. Va detto che a Bautista questa pista è sempre stata gradita, basti pensare l'anno scorso quando ha dovuto sostituire l'infortunato Orge Lorenzo nella Ducati Ufficiale MotoGP, questo dal nulla è arrivato quarto su questa pista, per cui è fuori discussione che lo spagnolo adori la pista di Phillip Island. Ma al netto di questo fare tre vittorie in due giorni sicuramente non è roba per pochi, anzi. Anzi è roba per pochi, scusatemi l'italiano, non è roba per tutti ovviamente. Bautista che ha vinto per distacco le due gare lunghe e qua ci viene in soccorso la grafica. Nonostante la pole position in qualificazione l'aveva sottinuta Jonathan Ray con un tempo strepitoso di 1.29.4 che è addirittura il record personale del pilota nordirlandese. Bautista nelle prime fasi di gara 1 ha compiuto un duello eccezionale con Jonathan Ray per poi prendere e salutare la compagnia e lasciare il cannibale in pasto al suo compagno di squadra Lion Aslam. Lion Aslam che a metà gara in realtà è caduto e non ha avuto modo poi di lottare per il podio. Podio conquistato a sorpresa da Marco Melandri su una Yamaha del team GRT che di fatto sulla carta sarebbe un pelino sotto quelli ufficiali di Van der Mark e Loos. Loos che in gara 1 è arrivato quarto proprio in volata con il pilota Ravennate. In gara sprint ha vinto ancora Bautista ma ha seguito un altro schema di gara è stata una gara un po' più lottata con Jonathan Ray che è però arrivato al secondo posto dietro ovviamente al pilota spagnolo che ha resistito fino all'ultimo giro per poi godersi la sua seconda vittoria e terzo in questo caso è arrivato Lion Aslam. Con la vittoria della gara sprint Bautista si è assicurato di partire in pole position in gara 2 e lì ha fatto ancora una volta il vuoto ha vinto con una roba come 19 secondi di vantaggio un qualcosa di clamoroso e ancora una volta se ci aiutiamo con la grafica del campionato è arrivato secondo Jonathan Ray ed è arrivato terzo Lion Aslam che ha un po' vanificato gara 1 con quella caduta e il conseguente quindicesimo posto al traguardo ma si è poi rimediato diciamo con due terzi posti convincenti triplo secondo invece per Jonathan Ray e triplo primo invece triplo primo scusatemi per l'incartamento italiano per Alvaro Bautista l'altra Ducati ufficiale quella di Chaz Davis come vedete bene ma non benissimo decimo in gara 1 decimo ripetuto in gara sprint settimo in gara 2 con grande rimonta Chaz Davis partiva sedicesimo in qualificazione ed è per questo che ha fatto dei piazzamenti per lui non sufficienti sì in zona punti ma bisogna tenere presente che ci sono 18 piloti partenti regolari e appunti ne vanno in 15 quindi per un pilota come Davis non dico è banale raggiungere la zona punti ma insomma quasi e ha dovuto quindi partire un attimo ad handicap evidentemente non si è adattato ancora molto bene alla moto nuova che vi ricordo è un quattro cilindri in linea e non più un bicilindrico la nuova Panigale ha questa nuova configurazione cosa che invece Bautista ha fatto alla velocità della luce va detto che come ho detto prima Bautista adora la pista di Phillip Island bisogna vedere al prossimo appuntamento in Thailandia cosa combinerà il pilota spagnolo italiani in gara Melandri ha fatto un buonissimo terzo posto come vedete in prima gara e doppio sesto sia in sprint race che in gara 2 dietro alle due Yamaha ufficiali che hanno poi ristabilito tra virgolette le gerarchie interne con Van der Mark Lowe's quarto rispettivamente in gara sprint 1 e in gara 2 l'altro la BMW che era uno dei miei oggetti misteriosi e al tempo stesso di curiosità è stata molto ondivaga Tom Sykes gara 1 splendida perché è arrivato settimo con una moto che non conosce che deve ancora adattarsi diciamo alle caratteristiche del pilota inglese però è stato un settimo posto lottato con Toprak Raskatioglu che infatti è arrivato sesto in prima gara con appunto le stesse Yamaha ufficiali insomma la BMW ha del potenziale poi viene andata scendendo di prestazioni con un tredicesimo posto addirittura in gara 2 addirittura dietro al compagno di squadra Reiterberger che è un pilota molto meno quotato di Sykes nonostante Reiterberger sia un protetto di casa BMW molto male le Honda Camier non ha dato punti nelle prime due gare ha dato punti nella terza stessa cosa per Riusci Chionari con un banalissimo quindicesimo posto Chionari sembra più un tester più che un secondo pilota come se fosse lui di fatto quello che dovesse provare gli sviluppi da poi inserire in futuro sulla Honda l'altro italiano in gara sempre per onda è Alessandro Delbianco che è arrivato in fondo alle graduatorie 17esimo nella prima gara poi è caduto in entrambe le gare sia sprint che gara 2 quindi è iniziata ad handicap la stagione per questo ricordiamolo però esordiente assoluto terzo italiano iscritto alla competizione Michael Ruben Rinaldi con un nono e un ottavo posto ha fatto sicuramente una buonissima figura un buonissimo esordio ricordiamo che Rinaldi non ha mai corso su questa pista lui ha percorso soltanto i round europei della superbike la scorsa stagione e poi ha avuto un problema una caduta nella terza gara ed è arrivato sedicesimo prossimo appuntamento della superbike lo rivediamo insieme è il weekend tra il 16 e il 17 marzo in Thailandia capitolo super sport torniamo a Randy Krummenacher che è stato il vincitore della gara una gara che è stata segnata dal pit stop obbligatorio dovuto semplicemente al fatto che la pista di philippe island è molto degradante per quanto riguarda le gomme e dunque per evitare il blitzing eccessivo e dunque proteggere l'incolumità dei piloti è stato scelto di far fare i piloti il pit stop obbligatorio Krummenacher nella prima metà di gara diciamo si è confrontato con il suo compagno di squadra che è Federico Caricasulo che è l'italiano più competitivo in questa categoria adesso guardando anche la scuola del campionato faremo anche una padramica su questa categoria e con Jules Clusel che è un altro degli eterni pretendenti al titolo dal momento che è un grande esperto di questa categoria Clusel che è arrivato sul podio come possiamo vedere dietro a Krummenacher davanti a Caricasulo Caricasulo però può aver dei rimpianti perché ha avuto un problema nel pit stop obbligatorio gli è rimasto attaccato tanto per intenderci il cavalletto alla ruota posteriore e ha perso un casino di tempo altrimenti poteva giocarsela tranquillamente con il suo compagno di squadra va detto che nei test prestagionali fatti sempre a Phillip Island il team Evan Bros che ha finito primo e terzo in questa gara è il team sicuramente più competitivo a oggi e quindi potrebbe uscire tra questi due piloti il campione della categoria Supersport che presenta qui possiamo vederli un attimo in rapida successione 24 piloti al quale si è aggiunta una wild card in questa gara australiana ovvero Tom Toparis favoriti velocissimamente Krummenacher l'abbiamo detto fin da subito insieme al nostro italiano Federico Caricasulo da non tenere ovviamente come underdog c'è Lucas Maia campione nel 2017 di questa categoria e direi anche il solito Jules Clusel potrebbero essere quattro piloti importanti per questa categoria per applicarsi il titolo nota importante tutti su Yamaha R6 la moto dominante in questi anni tranne Maia che però nella prima gara si è adattato abbastanza male alla Kawasaki è finito dodicesimo in questa gara ma per via di alcune penalità dovute al mancato rispetto dei tempi del pit stop chi raccoglie la Supersport un po' di tutto da ex piloti del moto mondiale come per esempio lo stesso Hector Barberà a piloti giovani di prospettiva come Loris Cresson che ha sempre stato nelle moto di serie, Corentin per la Ri scusatemi per l'ennesimo incartamento, pilota francese che viene dal mondiale Endurance e dal CEV Moto2 e piloti dalla Supersport 300 come per esempio Grand Van Stralen e quella che è mia moglie ma che lei al momento non lo sa vale a dire Maria Herrera che ha avuto un trascorso in Moto3 correrà in MotoE anche in questa stagione e è passata dalla Supersport 300 alla Supersport 600. In Supersport 300 categoria che poi correrà a partire dei grande europei del campionato Superbike ci saranno altre tre ragazze iscritte tra cui Anna Carrasco campionessa uscente ed è stata la prima donna a vincere un campionato mondiale dal momento che la Supersport 300 ha valenza di questa caratura. Parentesi sugli altri italiani iscritti a questa competizione Ayrton Badovini è finito quindicesimo in questa competizione è un pilota iscritto col team Pedercini lo stesso che tanto per intenderci corre in Superbike. Raffaele De Rosa corre su MV ufficiale come l'anno scorso ha avuto dei problemi tecnici ed è stato retrocesso in dicesima posizione ma è un pilota che può valere molto di più sicuramente un piazzamento tra i primi cinque. Il suo compagno di squadra è Federico Fuligni che ha fatto il mondiale Moto2 l'anno scorso ma fondamentalmente è una comparsa. Gabriele Ruiu pilota giovanissimo 18 anni corre con Honda. Il compagno di squadra suo è Alfonso Coppola pilota che ha fatto i round europei della Supersport lo scorso anno ma nelle retrovie è stato protagonista invece in Supersport 300. Sono 24 i piloti regolari iscritti a questa competizione si aggiunta vi dicevo una wildcard ce ne saranno altre nel corso dei round che verranno. È comunque una categoria che si è diciamo adattata agli alti costi come la Superbike tanto è vero che ci sono meno piloti iscritti l'anno scorso ce n'erano 30 così come in Superbike ce n'erano oltre la ventina e adesso facciamo fatica arrivare a 18 piloti. Il prossimo appuntamento è così come la Superbike sarà in Thailandia il 17 marzo gara che si mangerà di domenica. Il saluto da parte di Matthew Thorgard fatemi sapere cosa ne pensate in un commento qui sotto di questa analisi del campionato Superbike del primo round. Ci vediamo al prossimo video sportivo del mio canale e alla prossima!